Rossano Rubicondi è morto. A darne l'annuncio è stata la collega e amica Simona Ventura su Twitter nella serata di venerdì sera. Il modello è deceduto a 49 anni a causa di un melanoma cutaneo. L'ex marito di Ivana Trump non aveva rivelato al grande pubblico di essere malato. Non aveva fatto sapere nulla a nessuno perché lui era così. Pensava a mettere di buon umore tutti, ha dichiarato Vladimir Luxuria. Amica di lunga data del modello romano. Il conduttore Alberto Matano ha rivelato di aver subito sulla propria pelle episodi di discriminazioni dovute al suo orientamento sessuale. Il velato coming out è arrivato giovedì in diretta tv durante il programma. La vita in diretta, nel corso di una discussione sul DDL Zan. Il giornalista 49enne, con la voce rotta dalla commozione, ha detto. Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male. Perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L'ho provato sulla mia pelle. Quindi so cosa significa. Barbara D'Urso sarebbe diretta verso Sky. Durante questa settimana si sono susseguite le voci sul futuro della conduttrice ad oggi in forza a Mediaset. La presenza della napoletana nel palinsesto Mediaset è stata notevolmente ridotta rispetto agli anni passati. Oggi Carmelita è al timone di un solo programma. Pomeriggio 5. È davvero arrivato il momento dell'addio definitivo tra Ladurso e il Biscione? La love story tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continua a far parlare di sé. Dopo voci che vedevano la coppia in crisi nera. In settimana tra i due genitori di Luna Marie sembra essere tornato il sereno. In seguito a vari segnali. Storie Instagram sospette e l'assenza di foto insieme i due sono tornati a farsi vedere affiatati sui social. Sembra essere tornato il sereno anche in casa Icardi Nara. Dopo giorni e giorni di sospetti. Conferme smentite. Vanda Nara ha spiegato attraverso un post Instagram cosa è successo davvero tra lei e il calciatore. I due. Ha detto l'influencer. Avrebbero davvero pensato al divorzio così come si vociferava. Ma dopo aver firmato l'accordo Icardi avrebbe scritto un'appassionata lettera alla moglie. Che ha capito di non poter vivere senza il marito.